Rendere Pescara ciò che era negli anni Ottanta, ovvero uno dei principali poli economici dell'Adriatico, potenziando il turismo, il commercio e instaurare una mentalità rivolta verso l'Europa. Sono queste le principali richieste presenti nel documento che la Confesergenti di Pescara ha fatto firmare questa mattina i candidati sindaco della città. Assenti per altri impegni elettorali il sindaco Luigi Alboremascia e la candidata del Movimento 5 Stelle Enrica Sabatini. Noi chiediamo ai candidati sindaci di firmare 10 punti sul commercio di Pescara perché la crisi del commercio ormai è evidente per le scelte che sono state fatte da questa amministrazione negli anni precedenti dove si è detto molto, si è parlato molto ma si è fatto molto poco. Quindi noi chiediamo ai candidati sindaci di sottoscrivere dei punti per noi cardine importanti e poi faremo vedere, faremo valere queste decisioni. Anche perché noi chiediamo soprattutto che l'assessorato al commercio e l'assessorato al turismo devono essere dello stesso assessore in modo che una mano, la mano destra sappia quello che fa a sinistra perché altrimenti si va continuamente in conflitto e non riusciamo a fare qualcosa di concreto per la città.